Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella venticinquesima puntata della serie svizzera, oggi siamo qui con... Si su Ciao a tutti Allora ragazzi, stiamo arando il campo nuovo che abbiamo comprato, ne abbiamo comprati due Che sono uno e questo, e l'altro e questo qua, erano tutte e due mais, li abbiamo trebiati noleggiando la barra Quanto è uscito? Lo sai? Guarda, a me sarà un carro quasi pieno Quindi circa venticinque mila litri Bergamo Ma non si sta sbiancando, sarebbe bello se si sbiancasse l'arato perché si sbiancano le ruote Si sentito quello solito? No Sbiancamento un'arato No, io pensavo che vedessi per un'altra cosa No, no Comunque c'è per la season tipo c'è il realismo smodding che non si è più sentito, almeno io non ho più visto news niente Che sta facendo che mette i trattori che tipo si sbiancano un po' così Che sbianisci le vernite, intendi? No, che si sporcano di neve Ah, se nevica Se vai sulla neve, sì Sicuramente le ruote diventano bianche tipo quando vai la caccia Però farebbe schifo, cioè sulla neve non è così che faccia No, perché se scioglie Beh, un mo' cosci, eh, per carità Cioè, quasi da, non si vede quasi le cose Eh, non tanto Eh? 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 Se lagando, sta lagando Discord? O tu mi senti? Ah, è Discord, vabbè, allora facciamo la chiamata Ah, si aspetta che sposto il server Facciamo prima Eh, si fa qua Impostazione del server Western Europe Salve modifiche A posto? Sì Eh, non me li hai storto Ci hai cambiato... canale, giusto? Sì, siamo andati invece che nel server Europa Centrale in quell'Europa... del West Romania Eh, Romania Italiano Romania.org www.romania.org 24.000 Io, Samir, io, no, porca di una misè 24.569 diti Quanto? 24.000? 569 Ah, io avevo detto quasi 25 89 Vabbè, 98 Oh, 98% al contrario, 89 Ma quanti litri c'è da 0%? Ma che è 720, 720 24 24 Più pure tuning, c'è tipo 270 cavalli Eh, vola Te l'avo, eh Cioè, i tappeti? I tappeti Non si stabilizza Ma che partire non si stabilizza? Ola Perché si può... Perché, che stai mettendo il cimento? Eh, perché se non ti stabilizza No, eh L'avevo fatto perché volevo fargli tirare la cippatrice Accendere la cippatrice a quel trattore Solo che Anche se gli ho messo il tuning Non la faceva accendere neanche Quindi Eh, ora ci stanno Eh, sì, sì Oramai non cambio più Sto offendoci a 12 ore È nuovo Eh, il mio c'è una 7 Ma Ti ricordi quella roba Che con la gearbox I trattori sembrassero Sembrava Sì, handicappati No, sembravano che dopo tipo 10 ore Eh, sì, non andavano più Erano handicappati Eh Ho comprato un TM190 Eh All'inizio partì con la marcia 22 C'era la gamma 22 all'ora E non me faceva andare Partia bene, diciamo, no? Eh Adesso Che c'è tipo 9 ore Vado ad accenderlo Parte RPM Solo Dice No, RPM G troppo bassi Dice Eh, RPM solo Eh Eh, perché se serve Lo diceva in inglese Qua non so Perché In inglese Eh, cioè E poi Retromarcia Parti con la marcia 9 all'ora Col 14090 RPM Sto l'altra volta Eh Prima mandalo, no? Amico lo faceva Ti posso fare Ma strato È normale che vada 10 all'ora E' consumato Cioè, è consumato Cazzo Non ti è mendicato Dovrebbe essere Tra l'altro 12 Dovrebbe andare Eh, appunto Ragazzi abbiamo comprato Questi due campi Come vedete Abbiamo speso 87 88 89 Più 91 E L'idea di Samo Era comprare anche Questi tre campi qua Uno, due, tre E unirli Che sono anche lì 110 mila 110 mila euro 120 Magari E praticamente Adesso Stiamo arando Un messaggio Una risposta Bene, abbiamo dato la calce Stiamo arando E buttiamo giù Poi Il concime Per mettere Tutto mais Da tutto Che abbiamo preso la seminatrice Ieri E trinciare Tutti ho detto Tutti Oma Paolo E Capo E Stasera Iamo A festa A fare Le robe Paolo Ma E Guardate Mi 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 Sì Devo farti un giro E dai Sono curioso Ma il trattore Si sta sporcando Sì Ma perché l'altra volta C'era su Cioè abbiamo fatto Tipo tutta la legna E c'era dirti su no Come si va a cambiare dirti Eh nell'esc Vai tipo su Quello dove c'è il trattore Metti no Ma è per ogni trattore o No no Per ogni Per tutti Più spegni E più costa Corbo 1000 euro Per riparare la treppia Non Hai Annetta la treppia Qualcuno Ma va No Non Non credo proprio Qualcuno che c'è l'orzo Ma la ricomincia Non so Non so Non so Io 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 Non attacco Io Mi Difendo In Pasta No Io però Non ho visto niente Ho visto quei trattori là Che ti dicevo Altro giorno Ehi Però non mi ricordo Per andare in Alessandria Ma non mi ricordo Che cosa avessero Avevano dei carri Quindi non ci piove Ma non ricordo Cosa trasportassero E' insilato Ma se no Eh erano cari da silato Però Dici che trincia Da te si fa l'insilato Dici che già hanno compi Eh beh si Sì sì Oggi Ma a me che sta adesso Che sta fare l'insilato Sì sì Sta trincia Sto trincia Anzi adesso sarebbe ancora Un po' tardi Perché Quest'anno sta un po' arrezzata A stagione Sennò Anno scorso Già A primavera Si cominciava Ma hai visto se faceva l'insilato Anche durante il periodo Della trebetura del grano Ma hai visto tu? No Ah vedi? Perché sta indietro a stagione A stagione Ne Do me non mi Ne Sta già stagione Ne Che troia mi sono ingrattato Bravo bravo No 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 Complimenti Parassia della numerazione Con l'intera informazione Siamo 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 Riparassio Ma che quanta roba te riparà Si riparà Si riparà l'altro momento Azzavaro no perché sono grande Sì A me la rimenta tutta tratta lucida Eh no Lascela così bene Costa Più Spegni più costa Capito No più costa Più Tu farà trent'anni Finizia la rame Eh ho fatto se no Metà campo Ma va dice allora Va a stus Tu cosa No perché è importante che è potente No ma è l'aratro che va dicendo Indice allora Indice Indice No no Importante che è potente Eh Ma quanto mi è piaciuta quella serie là Ma Simo con lo fiat Io gli mettevo a gpl Massimo non bloccava mai E lo so infatti io avevo messo classe L'avevo voluto Sì sì Con cerchioni grici Con cerchioni grici Massimo ma con lo qui con cerchioni grici Oh Sì che era da Io avevo messo la cerchiatore Ma non vado a tutto Io mi ricordo anche di un best moment Che c'è tipo Simo che Io va due in discesa Ma va a casa fammi vedere Eh perché io avevo messo la cerchiatore Ma non da tutto Ero fatto un po' di bordello Mo sto venendo a erpicare No Prima ciò che porti lo con Cimo Ci sta già l'asolo Eh Allora vai Aspetta Ferma Vai a spargere la calcia Su quell'altro campo intanto Ti posso far che c'è a bordo strada Con le quattro frecce Ma metticene anche cinque Metticene quanta nemmo Guarda Capiccio pure io con la sinistra Almeno Tu va Tra Hai così finito sto campo Sì E che te piglia un gorbo Piano Lì stapi là Piano Non lo sa Muttando Piano Vai a fare quell'altro Cambi Svuoti la calcia Carichi il concima E vieni a concimare Cadre se non è rimasta la calcia Quando vestendo No Ne abbiamo comprati 4.000 litri Quanti litri c'è sopra 3.400 Eh Sì 600 litri L'abbiamo usata tipo tre volte Per fare tutti i campi Ma a me mi ricordavo All'inizio tipo Ne consumava un bordello No Non ne consuma niente Eh perché tipo Se ho messo quella mod A 100 litri all'etaro Eh perché se no Veramente era troppo prima Sembrava quando Spargli Da danni Beh ma effettivamente Sbianca Cioè devi darne un sacco Non è tanto per risparmi i soldi Ma per risparmi il tempo Perché più costa E meno risparmi il tempo È il brutto vedere che tipo Passi sopra l'erba Le gomme diventano Verdi all'istante Passi dentro la calcia Diventano tipo Bianche all'istante Cioè no Bianche all'istante No Però verdi Appena tocchi l'erba Diventano verdi Ma non mi pare Cioè fanno mezzo giro E si puliscono subito Sì sì Fifi No diventa verdi Tipo quando passi sopra L'erba sfalciata No anche L'erba L'erba normale Guardalo Si vede Io Tu mi vedi? No perché Eh? Sì Cioè lo devi vedere in che senso Sulla mappa Cioè da lontano Io ti vedo Dall'acqua? Dall'acqua Sì da la vista Guarda tipo davanti a destra Tu Sì te vedo Tipo c'erano tutte bianche Certi bianche Sì Anche passi sulla terra Un attimo Diventa subito marrone Passi sull'erba Ho fatto Te Mezzo Appena tocca l'erba Si puliscono Focchi 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 con te Qua bisogna stare attenti Per andare giù Un attimo Il ventilatore è sbiellato Il ventilatore è sbiellato E' un rumore strano E chiama Grego Chiama Ciò che lo rettifichi Ma schiacciata Che fio Senti io ciò che Allora Incrementano No tipo Ah tu ci vuoi mani E facetti 3.44 Mettiamo Rimpiccioliamolo un po' Così almeno Non rischiamo mai Non ti vedo Piccio i ambeggianti Piccio Sono picciati Non ti vedo uguale No adesso si si Ti vedo Oh no non ti vedo più Però so che più Oh eccolo Eccolo T'ho qui T'ho qui Tanto col concime fai presto Perché tipo largo 36 metri Quello libero il concime Ma hai stato da ragazze Si ma dopo Col concime E' molto più largo 18 metri fa C'è con la calce Fa molto di più Ma è già un'altra Lezione quella più grande È questa Per dare la calce No No per darlo Per dare con concime Con concime Guarda che quello lì Lo sparge due volte tanto C'è All'area di lavoro Non è perché Allendo Perché C'è per sapere No Cioè si Genita altri Ma Uno è quello portato A sollevatore Poi c'è quello lì Uguale Ma due assi E vabbè Poi ci sono quelli Spandi letame Spandi Chimico La Liquido Io adesso tipo Ho consumato 60 litri Eh Tu ti lamentavi Che non te ne bastava 3000 pass Ehm Più 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 spegni Più costa Ma Samu Sai che Tipo tanti Dicono che su Fortnite Con la mira assistita Gli torna utile Tipo Smettere di mirare E mirare Smettere di mirare E mirare E lo so Ma spamma il tasto E mirano Io sul controller C'ho un tasto Che in teoria Tipo Monta un attimo Sul John Deere Tipo se lo premo Poi me lo preme Tipo lui All'infinito Guarda Basta che lo tengo Premuto Oddio Lo vedi Lo fa tipo Infinitamente Al secondo No ma loro Lo fanno col dito Cioè Ah eh Io ce l'ho Ce l'ho C'ho la funzione Proprio sul joystick Adesso quasi quasi Lo metto sull'anteggiante Dove si chiama questa marca? Del joystick? Eh Comunque qui si è capito tutto Zelotes Eh Non ho capito Come stai giardino Mi rassistita Cammino No? Che posso anche farlo così C'è da diventarci scemo Ah e puoi anche metterlo Che tipo lo fa Anche senza premere Tipo Eh Non avrebbe molto senso È sporco E il congima Andrà a consumare Dio? O guadio No Tanto guadio Infatti tu ne avevi Comparticito 50 pallet Sono sempre 150 Traveco Che c'entra il Traveco Adesso Eh tu sai quello che è? C'è una diretta di trasporti Del tipo TC No 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 Non lo avevo capito Va a cercare su Google L'hai inondata Vedi il capo No c'è paura Traveco Io so che un'azienda Che c'è tipo degli Scania R4 e 90 G4 Si Hai capito Vabbia volevo L'importante è che io Vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Dan Si su E tutto Ciao a tutti A tutti